Una vicenda abbastanza complessa che ha consentito Carmine e la compagnia di Alessandria di trarre in arresto un uomo considerato responsabile di maltrattamenti e danni della moglie e della figlia. Questa vicenda, probabilmente questa situazione di maltrattamenti, si protraeva da tanto tempo ed è sfociata in un evento molto violento che ha richiesto il nostro intervento. La pattuglia intervenuta si è trovata di fronte a uno scenario abbastanza violento e quest'uomo aveva picchiato e utilizzato violenza nei confronti della moglie e della figlia tanto da rendere difficoltoso per la moglie anche semplicemente di parlare. Aveva delle lesioni abbastanza rilevanti e quindi questo ha consentito di trarre in arresto.